Pierfrancesco Cagliari, direttore generale ICMA Ancma. Direttore, un commento su Motodays? Motodays è uno di quegli eventi che devono essere sostenuti, devono avere grande visibilità. È un momento in cui le aziende hanno l'opportunità di far provare i propri prodotti, è un momento di comunicazione, quindi tutti quelli che sono i saloni seri che noi consideriamo degni di poter essere supportati, quindi Motodays fa parte di questi. Roma è molto importante, è il centro di quello che sono le istituzioni, quindi noi abbiamo bisogno di parlare con le istituzioni e di riuscire a far passare che le due ruote sono la vera possibilità di mobilità e di ripartenza del nostro paese. Infatti questo è un momento molto difficile, lo sappiamo, bisogna puntare sulla passione. Bisogna puntare sulla passione, ma non solo la passione. La passione fa parte di quello zoccolo duro che ci fa andare avanti sempre. Dobbiamo anche far capire che le due ruote sono ormai la mobilità vera urbana, quindi abbiamo bisogno di infrastrutture, quindi posteggi, abbiamo bisogno per una mobilità elettrica, abbiamo bisogno delle infrastrutture, delle colonnine. Cioè bisogna che il nostro paese capisca che non esistono solo le quattro ruote, che comunque sono tartassate anche loro, ma hanno bisogno, specialmente per quello che è il commuting urbano, di infrastrutture che siano amiche delle due ruote, sia a pedali che a motore. Tu si sa, sei un grande appassionato di custom, che cosa ci puoi dire a proposito? Beh, sì, è una passione, trovo ancora queste moto un passatempo molto divertente sulle quali giocare. Io credo che sia un settore molto importante per quello che è la nostra, chiamiamola piccola, media industria o piccolissima, perché fa ancora parte di quell'artigianato che ha fatto dell'Italia quello che oggi è il prodotto più amato nel mondo. Quindi è una piccola realtà, è una realtà fatta di artigiani, ma che merita una grande considerazione. Grazie. 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 Grazie.